E' scontro fra il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed il circo Orfei. Il primo cittadino ha emesso infatti un'ordinanza che pone una serie di restrizioni agli spettacoli con animali tenuti in condizioni igienico-sanitarie non idonee. Una crociata animalista che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote al circo in programma dal 14 al 18 settembre e che ha visto la replica piccata dell'ente nazionale Circhi e dello stesso Nando Orfei che ritengono illegittimo il provvedimento e la presa di posizione del sindaco. La posizione è netta, forse anche più che una posizione netta, è una posizione molto decisa, è una posizione che intende comunicare a questi signori che c'è un territorio che va rispettato, un territorio che in questi giorni è diventato viola, visto che abbiamo l'intera città tappezzata di manifesti abusivi da parte di questi gentili signori, visto che non hanno nessun rispetto per l'interlocuzione istituzionale in considerazione anche degli attacchi fortissimi che sto ricevendo in queste ultime ore da questa lobby dei circhi. Io non sono assolutamente contrario al circo in sé per sé, io sono assolutamente però contrario allo sfruttamento degli animali, al fatto che queste condizioni per gli elefanti, per questi animali non sono in sintonia con il loro modo di essere e quindi è chiaro che questa posizione è una posizione politica che intenderò perseguire in tutti i modi e in tutte le condizioni che la legge mi consente di perseguire. C'è una normativa nazionale che comunque sostiene questi circhi, io non sono d'accordo a questa normativa nazionale ma la rispetto, la voglio, intenderò rispettarla. Allo stesso modo però tutte le prescrizioni e tutte le restrizioni che posso mettere in atto affinché il circo non prenda piede sul mio territorio saranno prese. A cominciare dal fatto che questi gentili signori devono toglierci tutti i manifesti abusivi che hanno affisso in questi giorni.